buongiorno bianconeri pessima partita col crotone ne abbiamo parlato ampiamente pirlo sotto accusa sto leggendo tante cose sui social sto vedendo tutti gli youtuber juventini che mi piace seguire c'è un malcontento generale giustificato per la partita col crotone sappiamo tutti che la squadra è in costruzione ma riteniamo inaccettabile pareggiare col crotone così male poi del resto e questo è sotto gli occhi di tutti quello che però volevo discutere con voi in questo momento è pirlo sotto accusa è un argomento delicato è un argomento che mai avrei voluto trattare dopo quattro giornate di campionato di fatto giocate soltanto tre giornate perché nella partita col napoli nessuno di noi può sapere come sarebbe andato a finire certo è che la sensazione sempre rimanendo al discorso napoli è che il napoli in questo momento sia superiore alla juventus e probabilmente non l'avremmo vinta quella partita a torino e dobbiamo forse essere onesti intellettualmente e riconoscerlo perché pirlo sotto accusa alcuni che diciamo che rimangono in superficie nel giudizio dicono abbiamo giocato male non abbiamo fatto dei bei risultati quindi pirlo è sotto accusa chi invece va un po più in profondità mette in discussione secondo me giustamente alcune scelte troppo precipitose di andrea pirlo troppe sperimentazioni l'ho detto anche nel mio video analisi di ieri post crotone juventus pirlo sta sperimentando troppo ovvero ricordate quadrado a sinistra con la roma pessima scelta quadrado peggiore in campo col crotone ha messo in campo tre giocatori del 2000 contemporaneamente fra botta portanova kuluseschi più chiesa che non si era mai allenato con la juve quindi diciamo uno un esperimento forse esagerato forse esagerato è vero che c'è una champions ne parleremo poi è vero che ci sono le famose 17 partite in 60 giorni come vi ho detto ma è anche vero che col crotone bisogna vincere perché la rosa della juventus può non essere la squadra più forte dell'universo ma col crotone le differenze di rosa anche schierando dei giovani devono essere evidenti differenze di gioco e di rosa ok pirlo sotto accusa pirlo out addirittura allora questo è il mio punto di vista ragazzi io ho contestato pirlo la scelta di pirlo per quadrado a sinistra non solo io l'hanno contestato tutti tutti e anche dopo il crotone io e tutti gli altri abbiamo contestato queste scelte eccessive da un lato quando leggi la formazione prima della partita dici pirlo è uno con le palle metti portanova c'hai le palle vai così grande andrea grande mister però finisce presto quell'entusiasmo finisce molto presto perché noi diciamo pirlo ha le palle perché confidiamo che lui abbia in mano la situazione e sappia molto più di noi che se fa quel tipo di scelta può essere vincente purtroppo nelle ultime due partite giocate a roma e crotone queste scelte non sono state vincenti di conseguenza pirlo si becca le critiche ci sta è giusto criticare siamo tifosi siamo molto esigenti perché la nostra squadra si chiama juventus e quindi noi siamo abituati a vincere e dominare perlomeno in italia e abbiamo ogni anno speranze di migliorare in europa siamo molto delusi di come stanno andando gli ultimi anni le ultime due champions l'ultima di allegri quella di sarri sono state pessime siamo usciti con l'ajax siamo usciti con leone agli ottavi e lo sappiamo tutti non non sappiamo ancora che cosa succederà in questa champions che sta per iniziare certo è che le premesse non sono buone quello che voglio dire io è che pirlo ha sicuramente sbagliato perché ha fatto delle scelte troppo azzardate anche all'interno della stessa partita cambia posizione frequentemente e non dà dei punti di riferimento queste sperimentazioni che pirlo non ha potuto fare in amichevoli precampionato e questo bisogna dargliene atto perché questo è un dato di fatto ma non deve permettersi di farle in campionato partita dopo partita perché abbiamo giocato tre partite con tre formazioni differenti e con tre idee di calcio diverse non c'è tempo per ragionare non c'è tempo per sperimentare e soprattutto purtroppo la juventus non è composta da 25 giocatori campioni del mondo ci sono tantissimi giovani tanti che non hanno mai giocato insieme di conseguenza non ci si può aspettare un dominio perché tu schieri 11 giocatori che sono enormemente superiori all'altra squadra lo stiamo vedendo da alcuni anni soprattutto e soprattutto in champions league non sono sempre le squadre con i nomi più altisonanti con i nomi più famosi a dominare ma a volte dominano le squadre che hanno nel complesso una rosa un modo di giocare vincente mi viene in mente l'atalanta mi viene in mente l'ajax di due anni fa queste squadre che dominano nonostante i tanti giovani quindi non sono tanto i campioni che fanno la differenza nel calcio moderno ma è un insieme vincente dovuto al gioco dell'allenatore all'idea che riesce a mettere in campo a come quei giocatori interpretano il calcio anche il lione il lipsia che attualmente è primo in classifica in bundes il famoso lipsia che era nelle final eight di champions quindi sottovalutato perché noi mentalmente diciamo bayern monaco lipsia c'è un abisso come dire juve e spezia ma non è così perché ci sono tante cose nella vita anche nello sport che a volte funzionano e altre non funzionano e allora torniamo al nostro giudizio non mi voglio perdere in altri discorsi internazionali pirlo è giusto che sia sotto accusa oppure no secondo me concettualmente sì è giusto che pirlo visto che indossa quella casacca quella giacca col simbolo juve deve sapere che si beccherà tutte le critiche quando non giochiamo bene o quando non facciamo un buon risultato perché questo è normale siamo esigenti ma le critiche troppo eccessive del pirlo out pirlo non arriva a natale eccetera per quanto mi riguarda sono troppo eccessive e ora vi spiego perché sono due i motivi per cui dico che criticare eccessivamente pirlo oltre misura sia sbagliato il primo motivo è che pirlo non ha mai allenato in vita sua è stato catapultato per motivi che soltanto in dirigenza juve sanno fino in fondo noi li possiamo intuire possiamo pensare che andrea agnelli volesse altri allenatori più blasonati ma che non visto alla fretta i tempi non c'era modo di averli che magari è un anno al risparmio abbiamo perso tante decine di milioni di euro quest'anno per diversi motivi e quindi risparmiare anche sull'ingaggio dell'allenatore era una cosa positiva visto il bilancio poi può esserci anche questa estrema fiducia verso andrea pirlo che probabilmente nelle sue idee esposte al presidente ha convinto agnelli a dargli già la responsabilità della panchina pirlo non ha mai allenato sappiamo tutti che è stato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio lo sappiamo tutti queste fuori discussione e sappiamo anche che la dirigenza non gli ha dato una squadra decente e qua arriviamo alla nota dolente al dente che fa male ogni volta che parliamo paratici il mercato perché questo questo è un argomento di cui dobbiamo parlare signori questo ovvero quindi tolto il fatto che pirlo non ha mai allenato e di conseguenza bisogna dargli tempo tempo inutile che qualcuno dica e ma sarri non avete dato tempo lo criticavate già dopo tre giornate sì perché sarri aveva una carriera alle spalle di calcio da allenatore partendo dal dal basso fino ad arrivare al napoli al celsi e poi è venuto da noi è normale che ti aspetti da subito l'intervento di un allenatore con esperienza pirlo non ce l'ha questa esperienza e e purtroppo purtroppo non ha avuto come tutti gli altri allenatori prima di lui il tempo durante l'estate di strutturare gli allenamenti inculcare il suo calcio fare qualche amichevole preparatoria non ce l'ha avuto si è ritrovato catapultato nel campionato di serie a senza aver mai fatto un amichevole se non una mezza domenica col novara alla continassa che non vale niente il mercato è finito alla seconda dopo la seconda giornata di campionato e solo dopo la seconda giornata si è ritrovato la rosa completa che dopo un giorno ha già perso perché sono andati tutti in nazionale e durante la pausa nazionale sappiamo bene che ha perso ronaldo e mccenni positivi al covid e ramsey infortunato quindi ha un attenuante pirlo che è fuori discussione ok quindi calma calma a essere già spazientiti e a dire che pirlo non arriva al panettone e che deve essere mandato via sento alcuni che dicono a natale richiamano allegri ragazzi calma andrea agnelli ha fatto una scelta e secondo me io ci posso scommettere una delle mie chitarre non lo manderà mai via pirlo fino a fine stagione mai mai secondo me non lo esonerà mai fino alla prossima estate che si vedrà perché perché esonerare andrea pirlo al suo primo anno d'allenatore significa bruciargli la carriera e allora sei stato tu a metterlo in panchina non lo fai perché gli rovini la carriera primo anno d'allenatore panchina importante lo esoneri gli rimane una macchia sul curriculum per tutta la vita per me non succederà mai e torniamo a noi la nostra squadra allora abbiamo parlato fino alla nausea di calcio mercato lo sapete benissimo anche il mio canale è nato a fine agosto no quindi in concomitanza con l'inizio del mercato estivo chiamiamolo estivo anche se poi è finito il 5 di ottobre ma voi siete soddisfatti di questo mercato cioè voi avete capito il mio punto di vista sul mercato no cioè io ho sempre detto morata vabbè mi aspettavo altro mi aspettavo qualcuno di più forte però non è che piango che è arrivato morata per me non è il nove che serviva hanno preso quello e vabbè chiesa chiesa quando si parlava di chiesa la juve quasi tutti i gioventini non erano così entusiasti di questo giocatore avevamo tutti paura che fosse un bernardeschi due chiesa va bene ok è arrivato chiesa può fare la fascia può fare l'esterno può fare quello che volete va bene artur kulusevski mckenny ne abbiamo parlato tanto va bene quello che manca perché manca ragazzi manca manca sono due figure ok gli esterni nuovi gli esterni nuovi perché mi risultava mi risultava nel senso che non è che l'ho saputo da fonti segrete mi risultava perché leggo cerco di capire mi risultava che quest'anno dovevamo cambiare gli esterni danilo alexandro e de ciglio dovevano andare via e dovevano essere rinfrescate mettere due esterni di spinta invece ci ritroviamo alexandro è fuori rotto e quando tornerà sarà comunque alexandro non è che si trasforma in roberto carlos stiamo dando spazio a frabotta bello romantico bellissimo vai ragazzino dell'under 23 ma signori frabotta deve essere il sostituto di un terzino devastante ma se il terzino è alexandro no e di là di là sulla destra non abbiamo manco un terzino vero e proprio ma abbiamo al momento danilo terzo di difesa e chiesa esterno destro ok diciamo di me o sarà quadrado di media questo è danilo è sempre danilo ha fatto due partite bene sandoria e roma ma danilo è danilo anche lui non è kafu maicon alexander arnold è danilo quindi non abbiamo preso esterni anzi abbiamo dato via pellegrini non abbiamo preso un centrocampista di esperienza devastante creatore di gioco tipo pogba awar cross isco modric questi ok non è arrivato quindi di cosa stiamo parlando pirlo ha un'idea di gioco è vero che non stiamo giocando non ci sono ronaldo dibala ramsey alexandro e delict per esempio è vero ma io penso che vista la stagione compressa com'è col covid eccetera non avremo mai 25 giocatori a disposizione avremo sempre qualcuno fuori nel complesso questa rosa è deficitaria parliamoci chiaro voi pensate che la juve abbia fatto il calcio il mercato estivo più bello degli ultimi 20 anni se pensate così buon per voi mi piace la vostra positività io che di calcio mercati ne ho visti almeno 40 sessioni estive ok non sono soddisfatto è un anno de merda è un anno senza soldi sì abbiamo visto il real madrid per la prima volta in bo 70 anni non ha comprato neanche un giocatore per esempio la premier è l'unica liga lega scusate che ha ancora un po di soldi da spendere quindi i soldi diciamo che gli unici che sono girati sono girati dalla premier league quindi ok l'anno de merda ma c'erano altre soluzioni c'erano varie soluzioni secondo me è ancora una volta non abbiamo fatto un buon mercato e non dimentichiamoci mai che i sette giocatori dati in prestito tornano tutti indietro l'estate prossima tutti a meno che quelle squadre dove sono andate non si innamorino follemente di loro e fanno un'offerta alla juve può succedere me lo auguro ma è un mercato con una pezza è stata messa una pezza ok non abbiamo fatto un mercato veramente definitivo ok e per il primo anno non abbiamo preso un top player perché chiesa non è un top player morata non è un top player ok siamo tutti d'accordo su questa cosa quindi pirlo ha questa attenuante che rosa ha e di chi è la colpa di andrea pirlo no no assolutamente no poi magari ragazzi il campionato è lungo può succedere di tutto e magari lo scudetto lo vinciamo ancora noi ma quello che è un dato di fatto il mio punto di vista è che il gap tra la juve e le altre squadre si è ridotto ancora una volta ancora una volta c'eravamo staccati quando è arrivato cristiano ronaldo ma il solo delict l'anno scorso non ha fatto alzare ulteriormente l'asticella secondo me l'inter il milan il napoli sono squadre che si sono migliorate rispetto all'anno scorso l'atalanta è sempre più sempre più compatta nel suo schema con i suoi giocatori di base no ed è preoccupante nel senso che una squadra che preoccupa questo è quanto e la juve non ha aumentato il gap e la cosa grave è che l'abbiamo ridotto in campionato ma è di conseguenza non l'abbiamo migliorato in champions league voi mi dite che la juve di quest'anno è meglio di quella dell'anno scorso pensate pensate questo senza averla ancora vista giocare ma sulla carta la juve di quest'anno è meglio di quella dell'anno scorso non lo so ragazzi in conclusione pirlo è giusto che prenda le nostre critiche lo fa lo criticheremo sempre quando perderemo quando pareggeremo male quando vediamo che non c'è un'idea di gioco è giusto così lo faremo con chiunque anche se ci fosse guardiola in panchina è giusto che si prenda le nostre critiche siamo tifosi è il nostro mestiere ma attenzione a non esagerare attenzione a non dire dopo tre partite pirlo è indegno pirlo non è capace pirlo doveva essere preso pirlo non arriva al panettone pirlo lo dobbiamo sostituire era meglio prendere dei zerbi ma che cazzo sta facendo con ste sperimentate calmi calmi perché a torino non sono scappati di casa lo stanno vedendo chi come si comporta con i giocatori che scelte sta facendo e sono convinto che non avevano digerito quadrado a sinistra e non hanno assolutamente digerito la scelta e lo schema di gioco della partita col crotone non c'è bisogno che glielo diciamo noi su youtube lo sanno benissimo la juve è una multinazionale c'ha firfiori di dirigenti tecnici bravissimi glielo diranno pirlo andrea ma chi cazzo hai messo in campo non va bene cambia hai tante belle idee ma una alla volta non quattro alla volta perché non funzionano funziona così calmo poco entusiasmo poco entusiasmo sia all'inizio come quando cambi lavoro vai in un'azienda nuova sei tutto gasato e fai cazzate perché quando sei troppo gasato in un'esperienza nuova sei poco lucido e magari sconfini dove non devi sconfinare devi ricordarti sempre dove sei entrato chi ti circonda cosa si aspettano da te ma anche avere il rispetto del pivello anche se tu sei un grande manager ma sei appena arrivato in un'azienda non puoi permetterti di arrivare cominciare a puntare il dito dopo un giorno e mezzo calmo cerca di capire chi lavora in quel settore in quella ditta e poi quando hai preso confidenza e hai fatto capire quanto vali dici la tua funziona così eh ragazzi nel mondo del lavoro se vuoi fare bene funziona così funziona così eh io vi ringrazio è un video sfogo un po lungo grazie di averlo visto tutto se l'avete visto tutto grazie che continuate a iscrivervi al canale questo canale piano 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 cresce e la cosa mi fa enorme piacere ditemi la vostra ovviamente su la situazione Andrea Pirlo perché questo è l'argomento del video ditemi se le colpe sono sue se la colpa è della dirigenza del mercato se gli date pazienza come gli do io lo aspettate dieci giornate mi sono dato dieci giornate tra campionato e champions league dieci partite non giornate partite prima di dire Pirlo mi piace non mi piace e vediamo un attimino ma dopo tre è troppo presto io non non voglio crocifiggere nessuno è troppo presto e ha troppe attenuanti e ve l'ho spiegato ragazzi grazie e sempre forza juve